Oggi siamo in un video super speciale perché come avete letto dal titolo mi è arrivato un pacco da casa Supercell direttamente da Supercell Eccolo qui, io non so cosa c'è all'interno, lo scopriremo all'interno di questo video Ma innanzitutto voglio ringraziare tantissimo Supercell per questo fantastico regalo Lo scatolo si presenta in questo modo e qui c'è scritto al vincitore va il bottino Di qua abbiamo il barbaro di Clash of Clans, poi abbiamo il carissimo Colt di Brawl Stars, la gallina di Hay Day e poi basta Poi vabbè c'è tipo il logo di Clash Royale, Brawl Stars e un po' tutti i giochi Supercell Ma adesso direi che si può proseguire con l'apertura perché vi giuro io sono super emozionato e sono troppo curioso Ok, il problema adesso è aprire il suo pacco Ah a proposito c'è anche la principessa di Clash Royale Quanti bauli aperto per trovare sta prima... Oh wow, guardate qui, guardate qui l'apertura Ok Mmm, quanta roba c'è all'interno? Si presenta tipo in questo modo e c'è un botto di roba Vedo già tipo il peluche della gemma di arraffagemme No raga, cioè è troppo puccioso, guardate quanto è morbido Fantastico, perfetto, così posso iniziare ad arredare un pochettino la camera Visto che mi sono trasferito Ma poi cosa c'è più... Oh 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 oh, cos'è sta roba? È tipo un astuccio, sembra tipo un astuccio scolastico con la faccina del Brawl Box Anche il colore più o meno è quello del Brawl Box E dietro c'è scritto un'edizione limitata di una collezione di spille Vado ad aprire... Oh yeah, raga questo qui starà proprio benissimo sulla mia scrivania Cioè fantastico Il logo di Brawl Stars Altro logo di Brawl Stars Vado ad alzare 3, 2... Uuuuh Raga, guardate qui Guardate qui ci sono tutte le spille dei Brawler Abbiamo quella di Bull, di Nita, di Colt, di Bombardino E di Brock, quella lì di Brock è seriamente la più bella E dietro c'è il logo Supercell E sono davvero bellissime Sono un'edizione limitata Si va avanti con un altro peluche Questa volta però ha il logo della sopravvivenza Abbiamo questa qui, la gemma di Arraffagemme E il logo della sopravvivenza E volendo posso utilizzarli anche come portachiavi Però in effetti sono molto gravi Cioè quasi quanto la mia faccia Poi c'è questo contenitore Vediamo cosa c'è all'interno Sembrano tipo degli sticker, dei Brawler Però si deve aprire Mi dispiace rompere questa confezione Raga, mi dispiace Però purtroppo devo farlo Ok, andiamo ad aprire Wow, wow Guardate qui, guardate qui Quanti sticker ci sono raga Mi sa che sono per tutti i Brawler Allora abbiamo il carissimo e il primo Si va avanti con il signor Barrel Guardate boh Cioè ce ne sono davvero tantissimo Mi sa che sono tutti i Brawler Stecca Colt Cioè guardate la faccia di Colt Quanto è buffa Tara Dynamike La carissima Shelly Il Brawler che abbiamo praticamente tutti quanti Eh ma cosa sta indicando Shelly? I miei capelli No vabbè questa qui è seriamente la più pucciosa Nita con il suo orsetto Sto scherzando Sto scherzando La più bella è questa qui Guardate Jesse con la torretta raga Sono una più bella dell'altra Il signor Mortis Vabbè Mortis però costa faccia per favore Carletto Guardate Carletto raga Quanto è curioso Di qua C'è la signora Buongiorno Pam Si va avanti con Eugenio sulla nuvola Corvetto molto pensieroso Chissà cosa starà pensando Guardate Spike Guardate Spike Quanto è puccioso qui Piper Bull Francuccio Che in effetti in questo sticker sembra molto più muscoloso Pocho Penny che sembra Non so se sia felice o arrabbiata Bombardino Brock E infine questo qui l'ho lasciato per ultimo Il carissimo Leon Uno dei miei brawler preferiti Ok Questi sono tutti gli sticker E siamo giunti quasi alla conclusione praticamente Ma di qua C'è una sacca Attenzione Non una qualsiasi sacca Ma la sacca di Supercell A proposito Io avevo bisogno proprio di una sacca del genere Cioè la stavo per comprare Perché qui non l'ho portata In questa nuova casa Uh yeah raga Lo immaginavo Lo immaginavo Siete pronti Qui dovete spolliciare Perché è il pezzo forte del video 3 2 1 Sbada bam Il peluche di Spike Nora che bellissimo Questo qui Lo metteremo sul letto E niente Che dire raga Io sono super emozionato Sono contentissimo Che Supercell Mi ha fatto questo fantastico regalo Quindi abbiamo un botto di sticker Di quasi tutti i brawler Abbiamo una specie di astuccio Che contiene Le spillette di Brawl Stars Una limited edition La sacca di Supercell I due peluche di Arraffagemme Di Showdown E il leggendario Spike Fatemi sapere cosa ne pensate Io sicuramente Creerò un reparto di qua Vediamo Mettiamo qualche mensola Dove metterò tutta sta roba Perché deve comparire assolutamente Dietro i miei video E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao